Merlo, cercare Pandini, colpisce di testa, poi riesce a far partire Cascionisi, fa vedere Simonetti sulla destra, servita adesso, Gioia riceve palla, entra in area di rigore, cerca il dribbling, poi vede Simonetti la serve, Simonetti si gira, Sostenvold dall'altro lato, il cross al centro, ancora per Simonetti che di prima la mette dentro ed è 2-0 per l'Inter. Al 25esimo arriva il raddoppio per l'Inter, una bellissima azione questa dell'Inter. Bellissima, in orizzontale in cui l'Inter non ha avuto fretta di avvicinarsi alla porta al momento in cui ha visto che non trovavano gli spazi, sono passate da una parte all'altra del campo e poi Simonetti bravissima nell'inserimento e poi in questa brava coordinazione al volo è lei che fa partire l'azione, allarga, si butta dentro e questo è veramente un gol molto molto bello. è andata a cercarsi lo spazio benissimo, è arrivata da dietro, ha preso, ha colto di sorpresa. secondo me in due